Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video del Dust & Rust Garage io sono Matteo, lui è Thomas e oggi siamo qui da Art & Stick per una Focus RS speciale ciao ragazzi, siamo qua con il nostro amico Marco ciao e volete tardi questa Focus RS e ci spiegherà un po' le modifiche apportate su quest'auto bene Marco, a te la parola, spiegaci un po' le modifiche apportate allora l'auto inizialmente era tutta bianca, quindi è stata applicata una grafica Martin Racing che richiama il mondo dei rally e poi sono stati fatti di dettagli tipo il tetto, specchietti, presa d'aria poi sono appuntati questi tipi di cerchi che sono degli oggetta a serie leggera per alleggerire queste masse insomma e sono state cambiate l'impianto frenante è stato montato un Happy Racing da 355 mm con fastidie pagide e è stato cambiato completamente anche l'assetto l'auto monta un KV Club Sport Variante 3 che in pista dai suoi prodotti che in pista si fa sentire diciamo prende molto di più l'auto dal punto di vista motoristico cosa hai fatto? l'auto di serie a 305 CV ed è stata modificata la centralina e i componenti per farla arrivare a 380 CV è stata fatta una mappatura Revo Stage 4 ed è stato cambiato lo scarico, l'aspirazione, intercooler vignitori, collettore d'aspirazione e altri dettagli per una bella differenza tra l'originale e adesso una bella differenza sia di motore che di meccanica bene ragazzi adesso a noi vi lasciamo le riprese di quest'auto e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale ciao a tutti 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 ciao a tutti